Fai ingresso il Presidente della Repubblica. Benvenuti, sono pronto. Chi comincia? Sono Marta Pagani dell'Istituto Comprensivo di Calcinate, Bergamo, Plesso di Cavernago. Signor Presidente, com'è per lei vivere al Palazzo del Quirinale? Riesce a considerarlo come casa? Per esempio, fate la raccolta differenziata? Rispondo subito all'ultima domanda per evitare di dimenticarmene. Naturalmente sì, si fa la raccolta differenziata, non me ne occupo io, ma si fa scrupolosamente. Sarebbe singolare se qui non si facesse bene, perché è una cosa importante. Il nostro Paese è per ora ancora in condizioni differenziate, nel senso che ci sono territori in cui si fa al completo, territori in cui si fa in maniera ancora sotto il 50%. E invece è importante farla bene completamente alla raccolta differenziata dei rifiuti, perché consente di tenere più, non soltanto ben pulita il nostro territorio, ma anche di utilizzare quel che dal ciclo dei rifiuti può venire in maniera più ecologicamente corretta e migliore per tutti. La prima domanda è come si vive al Quirinale. Vivere qui per questi pochi anni, in cui sono Presidente della Repubblica, quindi sono temporaneamente titolare di questo palazzo, significa essere rappresentante di tutti gli italiani, perché questo è il palazzo degli italiani. Anche per questo ho cercato di rendere sempre più reale questa titolarità di tutti gli italiani per il Quirinale. Ormai adesso le visite in questo palazzo sono ogni giorno. Quotidianamente vi sono tanti visitatori che vengono qui a vedere il palazzo. Oggi siamo qui perché il giovedì è un giorno di pausa per le visite. Ed è altrimenti questo salone, come tutti gli altri vicini che avete percorso, sarebbero attraversati costantemente da gruppi di visitatori. E questo rende più evidente l'immagine di un palazzo che di tutti gli italiani. E' così anche per Castelporziano. Castelporziano è una grande riserva naturale alle porte di Roma, molto bella, in cui l'ambiente e il sistema ecologico è rimasto quello che vi era due o tre mila anni fa. Ed è la residenza estiva della Repubblica. Anche lì si è cercato, era già previsto che andassero scolaresche periodicamente. Adesso è aperto le visite regolari in piccoli gruppi per non turbare l'equilibrio ecologico. L'estate, per tre mesi, vi sono gruppi di disabili che vanno lì a Castelporziano per utilizzare la spiaggia, per andare al mare, per vedere i boschi che vi sono dentro la riserva. Voglio dire che tutto questo avviene per far capire sempre di più, realizzare nella realtà sempre di più, che questo, come l'altra residenza a Castelporziano, è casa di tutti gli italiani. Allora, vivere qui rappresentando loro è una cosa che ha un certo fascino. Prego. Signor Presidente, mi chiamo Maima Remmalle e vengo dall'Istituto Comprensivo della Lombardo Radice di Siracusa. Sono italiana e i miei genitori sono marocchini, sono musulmana e assisto ai fenomeni terroristici con sgomento e indignazione perché i loro attacchi e le loro idee sono l'opposto di ciò che i miei genitori mi hanno sempre insegnato e di ciò che è la nostra religione. Nella nostra quotidianità, come possiamo non aver paura? Ti ringrazio. Anche questa è una domanda molto bella e interessante. Il terrorismo non ha una religione. Il terrorismo è contro qualunque religione. Nessuna religione ha principi che possono sostenere il terrorismo. Tant'è vero che anche il terrorismo che viene definito di matrice islamista ha come vittime soprattutto musulmani perché noi vediamo con molto allarme i tanti attentati in Europa ma vediamo anche con allarme non inferiore gli attentati molto più frequenti in Medio Oriente per esempio o in Afghanistan, in Iraq, in Siria dove le vittime sono quasi tutte musulmane. Quindi nessuna religione è identificabile con una qualunque giustificazione del terrorismo. Quello che occorre fare è non regalare ai terroristi un non fare a loro il regalo di considerare la loro criminale attività come una guerra di religione o una guerra di civiltà. I terroristi sono semplicemente contro contro la libertà e contro la dignità umana. E la dignità umana e la libertà che sono al centro delle grandi religioni. Quello che è importante, come dici tu, è non avere paura e non avere diffidenza per chi è diverso da noi perché la diffidenza è l'anticamera della paura è l'anticamera dell'odio. Avere anzi, io sono contento che nel nostro paese vi siano tanti studenti come te che hanno origini diverse, che hanno idee diverse perché questo fa capire come si possa convivere serenamente con chi la pensa diversamente, a idee diverse, a origini diverse. Quella di avere diffidenze per chi ha altre religioni o è di altra etnia è un'anticamera dell'avversione, dei contrasti, dell'odio. Occorre avere una grande comprensione rendersi conto che incontrare persone che hanno patrimonio diverso dal nostro ci arricchisce e arricchisce anche loro nello scambio. E quindi occorre combattere diffidenza e sospetti e combattere la paura. Quello che il terrorismo vuole seminare in tutto il mondo dove colpisce dall'Africa all'Europa dal Medio Oriente all'Asia più lontana agli Stati Uniti quello che il terrorismo cerca di seminare è la paura. Se ottiene il risultato di provocare paura in noi ottiene il suo obiettivo. Dobbiamo rifiutargli questo successo. Dobbiamo essere capaci di garantire la nostra sicurezza come sta cercando di fare in tutti i modi ma evitare di cadere nella paura perché la paura sarebbe un regalo e un successo per i terroristi. E quella è veramente contro il terrorismo una battaglia di civiltà che riguarda il vostro futuro e il futuro di tutti i paesi e di ogni civiltà.